Prima il covid, poi il caro bollette. Non c'è pace per le aziende, soprattutto per quelle che, per loro natura, sono costrette a giocarsela sui grandi numeri. Come il pesce azzurro, nota catena di ristoranti self-service della costa adriatica. Una nave che, per non affondare, deve riuscire a far quadrare i conti nonostante le spese ingenti che deve sostenere ogni giorno. E la bolletta dell'energia elettrica da poco ricevuta per la sede di Fano non è di certo d'aiuto. Siamo estremamente preoccupati da quando ci è arrivata la bolletta dell'energia elettrica del mese di luglio. Basti pensare che nel luglio 2021, con stessi consumi di kilowatt, abbiamo avuto una bolletta nel 2021 di circa 12.000 euro. Nel 2022 stesso consumo, una bolletta di quasi 42.000 euro. Che sono queste qua. Dopo due anni di pandemia, che a noi come ristorazione, maggiormente rispetto all'altro tipo di ristorazione, ci penalizza, in quanto noi viviamo sull'assembramento, sui grandi numeri che dobbiamo fare, e ancora purtroppo c'è tanta gente che ha paura di venire da noi. E inoltre, con l'assembramento che dovevamo evitare in tutte le maniere, ci siamo attivati qui nel punto di Fano per creare il drive sul fianco del pesce azzurro. L'asporto l'abbiamo dirottato di dietro e quindi diciamo che anche all'interno dell'organizzazione quifanese abbiamo distribuito il personale ovunque, quindi un aumento di personale. Il costo dell'energia si è dunque triplicato e il futuro appare tutt'altro che eroseo. L'energia elettrica che noi abbiamo sostenuto complessivamente in tutti i nostri punti nel 2021 è stata di 231 mila euro. Basti pensare che nel 2022, già al 31 di luglio, siamo a 2,73, quindi 50 mila euro in più in soli sette mesi. Io non so dove andremo a parare sinceramente, anche perché vedo che il costo a kilowattore sta aumentando progressivamente e non ci è arrivata ancora la bolletta di agosto, quindi penso che se questo che abbiamo detto prima era il costo di luglio, l'agosto sarà ancora maggiore e temo che avremo un 2022 con circa 500 mila euro di energia elettrica e non credo che riusciremo a sostenere una cosa di questo tipo purtroppo. Impennata record anche per le materie prime. L'olio adesso costa il doppio e l'aumento di un euro del prezzo del menù applicato già da aprile non è bastato a fermare l'emorragia, così si è dovuti ricorrere a soluzioni più drastiche. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di intervenire subito riducendo l'illuminazione, i tempi di accensione delle macchine, della testatura, della cucina ed in particolare dell'impianto di condizionamento. Abbiamo cominciato ad alzare quindi la temperatura, purtroppo qualche disagio in più c'è, però non possiamo fare diversamente, anche se credo che questo non ci risolverà un granché sinceramente e quindi temo veramente seriamente per il futuro. Ripeto, io spero di resistere e di non dover aggiungere la chiusura, ma qualcosa sicuramente dovremmo mettere in campo, magari una chiusura maggiore nel periodo invernale, in certi orari o in certe giornate. Noi già a causa di queste problematiche della pandemia prima e adesso anche di questa situazione, purtroppo abbiamo già chiuso Milano Marittima e da ultimo abbiamo chiuso San Benedetto del Tronto e stiamo chiudendo definitivamente, anche se quest'anno già non ha aperto la barca, il ristorante è galleggiante, tant'è che lo demoliremo addirittura. Si sta valutando anche l'installazione di pannelli fotovoltaici, soprattutto per le sedi più grandi di Fano e Senigallia, ma i tempi non saranno brevi. Così l'imperativo ora è soltanto uno, resistere. Credo che i nostri politici, lo Stato, l'Unione Europea, insomma, debbano fare sicuramente subito qualcosa, perché le imprese credo che ne chiuderanno diverse e le famiglie soffriranno, ovviamente, perché anche noi, per esempio, stiamo dando lavoro a circa 120 persone in tutti i nostri punti, quindi 120 famiglie che saranno in difficoltà a causa mancanza del lavoro del Pesciazzurro.